signori e signori buonasera benvenuti all'istituto italiano di cultura di istanbul sono molto felice di accogliervi anche se virtualmente nel nostro istituto perché con questa iniziativa entriamo un po nel vivo delle attività che l'istituto di cultura ha programmato per tutto il 2021 per l'anno del settecentesimo anniversario della morte di dante abbiamo il 16 lanciato un'iniziativa su scala mondiale insieme al ministero della cultura il ministero degli esteri italiano un'iniziativa dante nel mondo che vedrà proprio il 25 marzo il dante di quindi la data ufficiale per celebrare tanti olighieri partecipare l'istituto italiano di cultura di istanbul ad una lettura che ci metterà in contatto con altri 12 istituti italiani di cultura nel mondo nella fattispecie noi inizieremo alle ore 10 ore italiane quindi alle ore 12 in turchia con una lettura del primo canto dell'inferno una lettura molto particolare perché sarà una lettura accompagnata da musica e jazz e quindi con quello daremo diciamo il il la alle nostre celebrazioni dantesche questa sera invece appunto il 21 marzo giornata mondiale della poesia vogliamo inaugurare questa settimana ospitando bilena il diz e quindi mi do il benvenuto a lui in questo nostro istituto virtuale quindi iniziamo questa settimana il 21 marzo con il primo canto del purgatorio e poi chiuderemo la settimana con il primo canto dell'inferno allora bule nel dis benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito il diz si è laureato nel 2010 nel dipartimento di lingua e letteratura italiana dell'università di ancara gloriosa istituzione in turchia direi quasi antesignana dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana in turchia fondata appunto nel 60 e da cui ha preso hanno preso avvio molti studi su su dante e la divina commedia nel 2012 bileneldiz ha terminato il master e nel 2017 il dottorato in lettere quindi abbiamo una profonda conoscenza della della lingua e della cultura della letteratura italiana complimenti dal 2012 lavora già presso il dipartimento di lingua e letteratura italiana dell'università di ancara ed è attualmente docente presso lo stesso dipartimento quindi una voce molto importante anzi attraverso lui saluto e ringrazio il capo dipartimento della dell'università e tutto il corpo docente del dipartimento di italianistica la lingua e la letteratura italiana sono quindi suoi principali campi di interesse e si occupa di letteratura in particolare di letteratura medievale moderna di resoconti di viaggio nell'impero ottomano e di fantascienza italiana di romanzo storico di giallo italiano quindi una conoscenza della letteratura italiana direi a tutto tondo e quindi un un ottimo ponte culturale tra l'italia e la turchia ha scritto diversi articoli su scrittori italiani e ha dedicato molti contributi critici alla lettura moderna approfondendo in particolar modo pirandello alvaro svevo cassola e calvino quindi grande attenzione nella letteratura moderna insomma italiana e ha pubblicato un libro sulla letteratura italiana nel 2019 la letteratura italiana nel medioevo e quindi alla ha allargato i suoi campi di interesse a quella a quel periodo storico della nostra letteratura questa sera appunto ci parlerà una lettura diciamo una lettura critica dal punto di vista letterario del primo canto del purgatorio che ha avuto lettori insigne e ha richiamato molta attenzione da parte dei critici danteschi anche qui in Turchia ma anche al di fuori di pro di vere e proprie letture dantesche il canto può contare qui anche in Turchia su una letteratura critica impegnata a sciogliere nodi di storia letteraria che sono stati proposti in connessione con la condizione di Dante di tante personaggio poeta alle prese con catone cioè quindi con la custodia del purgatorio per di più una lettura del primo canto del purgatorio e diciamo in ognuno di noi consciamente e inconsciamente preceduta da quella aspettativa di veder le stelle no quindi è uno di quei di cui frasi di quelle frasi di quei passi della divina commedia che si può dire conoscono tutti no e quindi e al fine non torniamo a rivedere le stelle questa questa speranza quindi viene qui proposta questa sera una lettura comprensiva del primo canto del purgatorio e a tale scopo bilan ci metterà in rilievo proprio una serie di citazioni di quelle autoritas che facendo riferimento alle opere degli storici come Jacques Le Goff ci possono far capire meglio soprattutto far capire meglio al nostro pubblico in Turchia questa questo significato del del primo canto del purgatorio e questa lettura infatti si propone di accertare proprio la natura stessa del purgatorio stabilita da Dante Alighieri e di determinare un approccio se così vogliamo dire innovativo del poeta nella considerazione di questo concetto insomma in altri termini proprio del purgatorio stesso che significato ha il purgatorio quindi io non mi dilungherei oltre lascerei la parola al nostro ospite e dandovi poi appuntamento a tutta un'altra serie di iniziative che da marzo fino a dicembre ci porteranno a far conoscere Dante qui in Turchia in tutte le sue varie sfaccettature grazie ancora prego istambul italian cultur marquezine salvatore schermo direttore dell'istituto italiano di cultura e tutti quelli che hanno contribuito cioè l'istituto italiano di cultura l'università di ancara e l'ambasciata d'italia ancara oggi parlerò del primo canto del purgatorio dantesco uno sguardo generale ci fa notare che per il poeta fiorentino la divina commedia è uno specchio dell'umanità e della storia che sotto la volontà e sotto il controllo di dio si estende fino all'infinito divisa in tre parti cantiche inferno purgatorio paradiso raccolinse tanti temi tra loro molto diversi quale storia religione letteratura cosmologia e filosofia l'ordine complicato dell'aldilà che Dante Alighieri ci presenta può essere definito come un sistema morale e il modo come ce lo racconta si basa sulla distribuzione delle anime in tre cosmi all'ulteriore suddivisione di questi classifica i peccati nell'inferno a secondo della volontà cattiva e successivamente secondo la gravità del peccato stesso vengono valutati quelli nel purgatorio secondo la pena che devono scontare per liberarsi dagli stimoli diavolici e i beati nel paradiso per quanto possono partecipare alla visione di dio e tutti gli abitanti di questi mondi vivono secondo un'esistenza ormai fissa infatti nell'inferno gli sguardi sono verso il passato nel purgatorio nel paradiso invece si guarda avanti e verso l'alto il sistema si basa completamente sulla concezione di etica di aristotele e san tommaso d'aquino ma insieme a questa struttura morale la divina commedia manifesta anche altri piani di racconto e strutture gerarchiche fisiche cosmologiche e storico politiche prima di passare all'esame del primo canto del purgatorio della divina commedia occorre parlare brevemente del purgatorio stesso tenendo in considerazione il periodo in cui dante visse dal 1265 al 1321 la percezione del concetto e come ne tratta il poeta fiorentino sono molto interessanti dal punto di vista della cultura occidentale i testi sacri contengono parecchie informazioni per descrivere il paradiso e l'inferno ma non sono molto ma sono molto limitate le informazioni che possano costituire dei punti di riferimento chiari netti determinati adatti a una descrizione filosofica il concetto di purgatorio fu riconosciuto ufficialmente dalla chiesa cattolica nel 1274 ma anche prima di questa data ci sono certe opere in cui si fa riferimento al purgatorio come un elemento di racconto sia filosofico che topografico è molto naturale che a causa di questa accettazione molto tardiva che nella letteratura italiana non ci sono rappresentanti rappresentazioni del purgatorio molto radicate le descrizioni del purgatorio rimangono molto semplici e superficiali in confronto a quelle del paradiso e dell'inferno a partire dal quarto secolo tanti teologi convergono sull'idea di un fuoco redentore che liberi dai peccati e che le preghiere dei vivi facilitino la redenzione ma non c'è un accordo sulla struttura e sulla natura di questo fuoco redentore per l'espiazione dei peccati la prima persona che ci presenta una sintesi ben delineata sul concetto del purgatorio e sant'agostino che è anche una delle fonti di ispirazione di dante agostino ritiene che l'espiazione dei peccati la redenzione ovvero il purgatorio si realizza tra la morte e il giudizio e reinterpreta reinterpreta le parti relative della bibbia secondo sant'agostino tutti i cristiani raggiungeranno la salvezza definitiva e questa salvezza non dipende soltanto da quello che hanno fatto durante la vita di questo mondo ma anche direttamente dalla fede e la purificazione arriverà attraverso il fuoco del purgatorio questo fuoco noto col nome ignis purgatorius può essere reale o metaforico continuerà a bruciare e a redimere fino al giorno del giudizio la dottrina di sant'agostino relativa al purgatorio venne accettata da diversi teologi e filosofi che gli succedettero possiamo nominare qualcuno per esempio isidoro beide e pier damiani e lo sviluppo più importante relativo al concetto di purgatorio avviene nel dodicesimo secolo e si incontra la parola purgatorio come nome di un luogo di conseguenza cominciamo a trovarci di fronte a espressione come ignis purgatorius pena purgatoria e loca purgatoria ma questi elementi di fuoco e purificazione non appartengono solamente alla fede cristiana tanti elementi della concezione del purgatorio cristiano ma soprattutto la purificazione attraverso il fuoco sono presenti nelle credenze egizia e persiana similmente la purificazione dopo la morte è presente in platone lutarco virgilio la prima opera letteraria che introduca il purgatorio tra il paradiso e l'inferno quindi con una concezione vicina a quella di oggi viene accettata comunemente appartenente a tartugliano ma la svolta relativa al purgatorio appartiene a gregorio manio che si interessa molto da vicino alla redenzione e produce delle idee molto vicine alla redenzione in merito molto solide e per spiegare queste sue idee usufruisce degli aneddoti delle parabole e fa sì che questi suoi insegnamenti facciano effetti anche sulla vita quotidiana e su quella sociale dal dodicesimo secolo in poi grazie al purgatorio di san patrizio questi a questi due concetti paradiso e inferno si aggiunge anche un terzo che costituirà uno degli elementi fondamentali del racconto racconto il purgatorio il purgatorio rappresenta una zona di mezzo uno spazio per la redenzione quelli che hanno scontato la pena che hanno raggiunto la redenzione qui partono verso il paradiso ma che il purgatorio venga fuori come una località è frutto di un processo molto lungo quindi la giunta del purgatorio parte dal dodicesimo secolo in poi diventa chi ha saputo espiare i peccati ripartirà per l'inferno dall'inferno finalmente per il paradiso questo processo parte nel terzo secolo però che diventi una vera località fino al dodicesimo continua esaminando le opere della letteratura della visione del secolo dodicesimo al tredicesimo è evidente che il purgatorio di san patrizio ha un posto speciale infatti è un'opera molto importante nello sviluppo del concetto genericamente parlando nel concetto di purgatorio si trovano tre elementi principali la redenzione la purificazione attraverso il fuoco successivamente anche ghiaccio poi il ponte e la montagna il funzionamento di questi tre motivi fondamentali del purgatorio si può riassumere come segue il fuoco il ghiaccio rappresentano la redenzione il ponte invece è il distacco dall'inferno e l'ingresso verso gli altri due elementi dell'aldità cioè purgatorio il paradiso è anche un esame uno spazio dove si vengono subite queste torture la divina commedia fu scritta in un momento molto vicino alla data di accettazione del riconoscimento del concetto di purgatorio ma è forse quello di Dante Alighieri è l'unico esempio di racconto che costituisca un'eccezione alle descrizioni del purgatorio Alighieri comincia a scrivere la sua opera all'inizio del 300 ci sono fonti che riportano la data 1305 riserva la seconda cantica al purgatorio e staccandosi da tutti gli scrittori e poeti che lo precedono ci lo presenta come una dimora fisica ma non produce una dimora ex novo combina gli elementi di montagna e redenzione che anche prima avevano un significato figurativo figurativo simile produce una concezione di purgatorio che lascerà un effetto su tutti gli scrittori e artisti che verranno dopo di lui tracciato questo quadro letterario e culturale relativo al purgatorio sarà opportuno iniziare a parlare della seconda cantica della Divina Commedia l'opera Immortale di Dante attraverso una citazione citando certamente gli ultimi versi del suo inferno perché un punto molto interessante è come Dante e Virgilio hanno raggiunto il purgatorio anche se Dante racconta l'uscita dall'inferno così salimmo su è il primo io secondo tanto chi vide delle cose belle che porta il cielo per un pertugio tondo e quindi uscimmo a rivedere le stelle dice ma non racconta come mai arriva al purgatorio come abbiano fatto a salire su quest'isola si aspetta che l'intervento divino si intuisca da parte del lettore i sentimenti che dominano il primo canto del purgatorio sono la solitudine e il silenzio ne è un esempio anche la solitudine dell'isola stessa in mezzo all'oceano in altre parole noi non siamo di fronte a un Dante appassionato e aggressivo ma tranquillo introverso pronto alla sacra arrampicata della redenzione infatti attraverso l'intero purgatorio gli incontri del poeta fiorentino portano a conversazioni amichevoli con le anime con quelle anime in cerca di redenzione e non più non sono più interrogazioni come quelle nell'inferno si può dire che insieme al purgatorio cominciano ad apparire il primo i primi bricioli di speranza relativa all'uomo e alla vita non si tratta di una speranza sicura e innegabile relativa al bene ma è fede nella possibilità dell'esistenza del bene stesso guardando la struttura del racconto la possiamo definire semplice chiara Dante Alighieri una volta chiesto aiuto alle muse dopo l'invocazione mette a raccontare si mette a raccontare il suo viaggio segue la traduzione la tradizione classica antica della poesia il cielo il mare le stelle racconta queste indubbiamente questa tranquillità del poeta fiorentina diventa la prima cosa che si fa notare infatti nell'inferno era teso timido e impaurito ma ora la sua anima è avvolta dalla pace e di tranquillità alla luce di queste informazioni se leggiamo il primo canto del purgatorio Dante ci riassume l'intero suo viaggio subito all'inizio nei primi sei versi con il significato letterale dei versi come ci indica Dante stesso il viaggio che fa nell'aldilà e le tre tappe principali di questo viaggio vengono indicate percorrer miglior acque alza le vele o mai la navicella del mio ingegno che lascia dietro a sé marsì crudele e canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al cielo diventa degno questo mar crudele indica l'inferno dove si purga l'umano spirito indica il purgatorio e l'ultimo punto l'obiettivo definitivo è il paradiso certamente questo viaggio non è un itinerario che consista in soli tre tappe già come Dante indicava nel convivio per la letteratura e per l'arte esiste una struttura a quattro sensi quello alla superficie cioè letterale quello allegorico morale e il senso infine anagogico cioè quello religioso sublime per questi strati di significato strati di significato quando parliamo della poesia di Dante uno dei concetti più importanti è autoritas le frasi di Auerbach lo chiariscono bene Dante per quanto riguarda lo stile raffinato si è ispirato ai poeti antichi ed è il primo a farla compresa la commedia ed è vulgare e eloquente in varie occasioni esprime la sua gratitudine nei confronti degli autori antichi per il suo alto stile nell'utilizzare il volgare per essere brevi questo concetto del pensiero dantesco indica la saggezza la letteratura la cultura antiche oppure ciò che è divino quindi quello che merita di essere imitato e preso come modello cioè autoritas diventa anche partendo da qua da questa struttura con concettuale Dante già al secondo verso attraverso l'immagine che crea con le parole la navicella del mio ingegno richiama il viaggio di Ulisse la prima cosa che nel purgatore attirà l'attenzione di Dante essersi liberato dal buio dell'inferno e di aver raggiunto un punto da dove riesce a vedere il cielo in altre parole insieme al buio al male alle torture alle sofferenze anche i sentimenti come la disperazione la crudeltà la spiacezza la paura e la preoccupazione sono rimasti indietro Dante di fronte a una nuova situazione che insieme al cielo illuminato cambia dallo stato d'animo lo bel pianeta pianeta che da marconforta faceva tutto ridere l'oriente velando i pesci che erano nel suo ascolto io mi volsi a man destra e posi mente all'altro polo e vedi quattro stelle non viste mai fuori alla prima gente il lettore attento nel purgatorio 1 22 nota un dettaglio molto sottile Dante si gira a destra questo giro verso destra è la prima volta da quando fosse partito come si ricorderà il poeta fiorentino e il suo maestro Virgilio viaggiano attraverso l'inferno muovendosi sempre verso sinistra all'inizio questo non sembra un cambiamento molto importante ma il significato allegorico figurativo che Dante indica fa notare senza dubbi la cultura medievale cristiana che ci si riflette questo girare verso destra e l'interazione religiosa ci ricorda un passo dai salmi 16 8 io pongo sempre innanzi a me il signore sta alla mia destra non posso vacillare infatti anche questa espressione rende molto chiara l'importanza del fatto che Dante si giri a destra e non a caso sia nel purgatorio che nel paradiso proseguirà sempre verso destra in aggiunta la terzina che ne parla contiene un'altra informazione importante ci rendiamo conto della posizione dove il poeta fiorentino ormai si colloca io mi volsi a man destra e posi mente all'altro polo e vedi quattro stelle non vista mai fuor che alla prima gente ripetiamo con altre parole verso 23 e 24 del primo canto del purgatorio esprimono anche l'unicità di Dante non sarebbe sbagliato dire che qui non si tratta non sarebbe sbagliato dire che qui non si tratta del senso superficiale letterale di cui parlavamo prima ma è il senso anagogico religioso sublime infatti Dante ritiene di essere un intermediario del divino e sottolinea che avendo realizzato questo viaggio da vivo ha vissuto un'esperienza significativa sublime quanto i culti più antichi del cristianesimo non a caso si nota anche l'espressione di quattro stelle si tratta di quattro colpi celesti che rappresentano le quattro virtù cardinali giustizia fortezza temperanza e prudenza allegoricamente guardando Dante ribadisce che queste virtù sono sparite l'umanità è ormai priva di queste virtù è ancora più importante che sin da Adamo e Eva queste virtù non ci sono più perché il peccato originale ha sporcato tutta l'umanità ricorda la cacciata dal paradiso terrestre causata da questo peccato originale a tal punto che il purgatorio che inizia nel paradiso terrestre finisce ancora nel paradiso terrestre secondo Auerbach le tre figure più importanti della divina commedia sono Catone, Virgilio e Beatrice ritiene che le loro manifestazioni nell'aldilà completa il loro essere di quando erano su questo mondo il dialogo tra Catone e Virgilio nei versi dal 31 al 60 nel primo canto del purgatorio è molto interessante questi versi ci raccontano ancora una volta il valore di queste figure nell'immaginario di Dante da come prosegue il racconto si indica il lato divino del viaggio di Dante che si realizza solo di conseguenza la volontà divina che proviene dal cielo ma è ancora più interessante sentire le parole di Virgilio che ripetono l'unicità di Dante ancora una volta questi non vide mai l'ultima sera ma per la sua follia come indica anche il verso questi non vide mai l'ultima sera si precisa che il poeta fiorentino è ancora vivo questo accento ha un duplice significato da una parte Dante è fisicamente mentalmente spiritualmente diverso dagli altri personaggi della letteratura della visione detto semplicemente è vivo d'altra parte viaggia nell'aldilà oltre la morte ma da persona viva e questo fa capire il tocco divino la grazia la grandezza anche dell'intervento divino del desiderio divino questo viaggio realizzato tramite Beatrice era frutto del desiderio di Dio perché solo Dio può permettere a una persona di fare un viaggio nei regni dell'aldilà ecco si nota qui quanto Dante sia pionieristico dal punto di vista letterario rispetto ai precedenti e quanto la sua opera sia più ricca di sensi su vari livelli e un altro punto su cui ci si deve soffermare particolarmente in merito al primo canto del purgatorio è la scelta della figura di Cattone Oticense cioè Cattone il giovane al primo sguardo Cattone sembra essere un carattere reclutato dalla cultura antica ma non si tratta di una figura qualsiasi ordinaria e uno che fu contrario alle politiche di Cesare Pompeo ha difeso l'idea della Repubblica infatti per non chiedere grazia a Cesare si tolse la vita autica Africa settentrionale e con questa morte togliersi la vita consapevolmente ci porta a un paradosso come si sa secondo la fede cristiana e come aveva precedentemente descritto Dante stesso nel tredicesimo canto del suo inferno chi si uccide deve subire una tortura infinita ma il poeta fiorentino a cui permette un'eccezione questa eccezione il carattere di Cattone e l'importanza che Dante accorda a quest'eroe del mondo antico si osservano nel canto prima dal verso 70 fino al 76 or ti piaccia gradire la sua venuta libertà va cercando che è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta solo sai che non ti fu per lei amara inutica la morte ove lasciasti la veste che al grandi sarà sì chiara e per quanto riguarda il carattere di Cattone è da sottolineare come prima cosa che era pagano e si è suicidato ma non si trova nel limbo né viene punito nel cerchio relativo dell'inferno a differenza di altri che avevano commesso suicidio Cattone è tra i salvati ci si presenta con un incarico molto importante e guida e guardiano del purgatorio questo privilegio di Cattone si basa su due punti prima di tutto l'ideale della libertà per il quale combatte e perde la vita successivamente la filosofia di Sant'Agostino che trova legittimo il suicidio se era per un obiettivo sacro e se commesso come prova di volontà per disprezzare la morte non ci stupisce trovare opinioni simili sul suicidio anche da due filosofi medievali importanti che hanno avuto un impatto notevole sull'opera di Dante Ugo di San Vittore e San Tommaso in più vediamo ancora una volta Dante ricorrere al concetto di auctoritas qui l'idea di fare di Cattone la guida e il guardiano del purgatorio diventa ammissibile alla luce delle parole che fa pronunciare al suo maestro Virgilio quindi per Dante Cattone diventa un modello un esempio tutto sommato il suo obiettivo definitivo aveva un lato divino anche nella monarchia infatti l'oda come i romani si sono sacrificati per la società infatti qui capiamo il suicidio di Cattone come mai non è un suicidio semplice ma un fenomeno più importante che forma anche il lato morale e filosofico di Dante infatti qui Dante elogia Canto come una figura importante come indicava anche Benedetto Croce Cattone per Dante è perfetto cioè rappresenta una concezione di etica ideale quindi c'è anche una si tratta di una libertà figurativa come indica anche Auerbach si annullano tutti i valori mondani quindi è un distacco dal peccato originale e la liberazione totale in più poi è interessante vedere anche Cattone che muore a 48 anni anche la sua apparenza fisica la sua descrizione come se fosse una persona molto più saggia un po' come volgendo all'altro polo vide presso di me un veglio solo degno di tanta reverenza in vista che più non dè a padre alcun figliolo lunga la barba e di peli bianco mista portava ai suoi capelli similiante di cui cadeva al petto doppio all'ista le origini di questa descrizione ci portano ancora all'autoritas alle descrizioni di Cattone che Lucano riporta nella Farsalia in più è notevole anche quanto si è illuminato il volto di Cattone quasi come attraverso la luce delle quattro virtù parlando di luce e luminosità indubbiamente Dante non sceglie per puro caso l'alba come momento di ingresso al purgatorio quindi di uscita dall'inferno l'alba infatti simboleggia un'attesa una speranza il giorno che deve arrivare che deve ancora nascere e questa scelta costituisce figurativamente anche la struttura caratteristica del purgatorio dantesco il purgatorio è un'attesa una speranza il luogo dove il viaggio dell'uomo verso il divino comincia a realizzarsi il giorno nascerà e la vita verrà illuminata con la luce alla luce di tutte queste informazioni non sarebbe sbagliato ritenere che il canto primo del purgatorio sia molto esplicativo Dante riferisce al lettore le caratteristiche principali del purgatorio in questo canto ad esempio una delle caratteristiche importanti del purgatorio che sono le sette cornici viene introdotta nel verso 82esimo con l'espressione lasciane andare per i tuoi sette regni a questo punto se vogliamo ricordare queste sette cornici che dal basso verso l'alto in forma di spirale si dispongono si tratta dei sette peccati capitali che secondo il cristianesimo sono queste superbia, invidia, ira, acidia, avarizia, gola, lussuria mentre l'anima peccatrice va verso l'alto prosegue espiando i peccati e si riduce il grado del peccato avvicinandosi verso il paradiso un altro punto interessante che merita di essere esaminato si tratta tra i versi 94 e 96 qui Dante presenta al lettore l'essenza del suo viaggio al purgatorio con una descrizione semplice crea un'immagine comune a tutto l'universo cristiano va dunque fa che tu costuri cinghe di un giunco schietto e che gli lavi il viso per sì che ogni succedume quindi stinghe Virgilio che lava il viso di Dante è come se fosse rinnovare il battesimo e rende pronto il poeta a salire su questo monte sacro quale purgatorio e partendo da qua si deve precisare anche che il giunco semboleggia l'umiltà a questo livello di significato diventa inevitabile ricordare l'ordine degli umiliati perché come accennavamo prima il purgatorio si forma sul concetto di misericordia l'ordine degli umiliati provenne da Alessandria in Piemonte successivamente fu presente in tutta Italia propugnando un ritorno ai valori fondatori della religione come onestà, frugalità, povertà come San Francesco d'Assisi e cioè rifugiarsi nella misericordia di Dio sono contrari alle tradizioni corrotte alla ricchezza ostentata e all'idea delle persone mondane che abbandona la fede come si sa l'inferno viene ricordato come il dominio dell'oscurità oscurità e della notte in più l'arrivo al purgatorio di Dante e Virgilio in un certo senso è come arrivare in un altro emisfero quindi concettualmente presenta una contrarietà contrarietà trattandosi ormai di un anima nobile che mette piede sul suolo dove regna la grazia di Dio gli occhi di Dante Alighieri si ritrovano con la luce troviamo questo incontro nel canto prima primo del purgatorio dal verso 115 l'alba vinceva l'oramattotina che fuggia in alze sì che di lontano conobbi il tremolar della marina infatti come accennavamo poco fa vedere la luce del giorno è un segno divino a tal punto che la terra che trova forma attraverso la luce e la grazia di Dio è estremamente fertile Dante riporta nell'ultima terzina del purgatorio questa fertilità della terra che è causata dalla presenza di Dio qui vi micinse sì com altrui piacque o maraviglia che quale le scelse l'umile pianta cotal si rinacque subitamente la onde avvelse infine dove siamo arrivati per Dante il purgatorio è il riflesso della vita mondana è uno specchio dove si vedono i riflessi ecco perché sebbene il monte del purgatorio sia una figura topografica nel frattempo è anche la vita interna dell'uomo la lotta tra il bene e il male è anche un pentimento che si sente dei peccati e l'essenza di questa parte è la misericordia ecco perché la vita è nostalgia è un eco la domanda avrei dovuto fare diversamente e nel frattempo è anche un processo di sorgenza consapevolezza e autocontrollo detto questo concludiamo il primo canto del purgatorio ringrazio dell'attenzione ringrazio ancora una volta tutti quelli che hanno contribuito a questo terreno caro caro benedizio siamo noi che ringraziamo te perché hai fatto insomma una disamina del canto che va oltre il canto stesso insomma inquadrato dal punto di vista storico letterario storiografico e anche poetico devo dire che è stato molto interessante seguire la tua relazione e ci hai fatto capire esattamente come il canto si apre proprio col proevio della seconda cantica in modo analogo al canto secondo dell'inferno quello in cui Dante aveva invocato genericamente le muse qui in questo canto il poeta invece chiede l'assistenza proprio di Calliope cioè la musa della poesia epica che deve guidare la barca la barca dell'ingegno di Dante in un mare che Dante stesso spera sia meno crudele di quello dell'inferno che si è lasciato alle spalle quindi una bella metafora della poesia come quella di una nave che solca il mare che era già un luogo nella letteratura classica e che torna proprio all'inizio del canto secondo del paradiso quindi il primo canto del purgatorio che si pone come canto di passaggio tra l'inferno tra quello che si è lasciato alle spalle e quello che si troverà e poi fin dei conti l'attualità di Dante perché anche oggi pensiamo di trovarci nell'inferno in cui ci troviamo al giorno d'oggi e speriamo attraverso il purgatorio di passare al paradiso quindi è anche un po' la nostra speranza di poveri uomini di oggi che vivono diciamo il loro inferno e quindi sperano attraverso il purgatorio di passare al paradiso quindi veramente veramente grazie grazie di questa ricchissima lettura critica del primo canto del purgatorio anzi permettimi di ringraziarti personalmente per avermi guidato insomma come ha fatto un po' Virgilio con Dante nella conoscenza della della ricezione di Dante in Turchia perché attraverso appunto le tue indicazioni ho potuto conoscere ho potuto scoprire come Dante insomma sia oggi ben presente nella letteratura turca e quando questo si è verificato insomma a partire dalla seconda metà dell'Ottocento quindi grazie ancora chiudiamo questa serata del 21 marzo giornata mondiale della poesia vi diamo appuntamento al prossimo evento del 25 marzo Dante avremo poi ospite ancora in un'altra delle letture critiche della della Divina Commedia perché abbiamo organizzato con l'Università di Ancara col Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana dell'Università di Ancara una iniziativa con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia che abbiamo voluto chiamare in cammino con Dante proprio per far capire come Dante inizia nel mezzo del cammino della sua vita un percorso anche noi con otto letture di altrettanti canti inizieremo un cammino un cammino che ci porterà da marzo fino a dicembre con più o meno un un evento al mese dove accademici scrittori ricercatori dottori di ricerca turchi delle università turche faranno come abbiamo fatto questa sera in turco una lettura critica di altrettanti canti dell'inferno quindi insomma iniziamo idealmente con questa serata il nostro cammino con Dante nella Divina Commedia per rendere chiaro alla agli amici turchi quindi non soltanto un pubblico accademico speriamo anche ad un pubblico più ampio il significato dell'opera di Dante Alighieri grazie ancora e buonasera da tutti